Daniele Romualdi, redazione di Canna Longa per Cilendo Channel, qui ad Ascea Marina, presso Fondazione Alario, in occasione di un importantissimo evento incontro organizzato dalla InReception, con sede qui ad Ascea, dal titolo Turismo Digitale, prodotti e servizi innovativi per il turismo e l'ospitalità. Importante evento oggi qui ad Ascea con la rappresentazione di questo importantissimo progetto che voi avete ideato e cercate di portare avanti. Sì, in effetti stasera è stata l'occasione ufficiale per il lancio dell'applicazione su cui stiamo lavorando da un anno e mezzo circa, come start-up finanziata dal Fondo di Venture Capital H-Farm in Italia, che va nell'ambito di una strategia sul turismo digitale da applicare al Cilendo. Di base noi proponiamo una soluzione per la gestione della piccola ricettività, Bed & Breakfast, agriturismi e case appartenenti per vacanze, che consenta ai gestori di poter semplificare tutte le attività quotidiane e di poter acquisire maggiori prenotazioni attraverso un progetto parallelo di promozione territoriale che si chiama Cilento.travel, che in effetti aspira ad essere, da qui al prossimo futuro, un portale di destinazione per il territorio Cilento, che oggi non trova ancora adeguato riscontro sulle politiche di promozione territoriale sul web. Oltre alla necessità di strumenti per una gestione adeguata della ricettività turistica che garantiscono anche nuovi modelli per un miglioramento dell'offerta, che è quello che ci proponiamo di fare, il progetto Cilento.travel punta a cercare di dare una riconoscibilità e un'identità alla destinazione Cilento, che molto spesso finisce per non essere adeguatamente identificata e non riesce a far passare i messaggi corretti in termini di promozione territoriale. Quali sono effettivamente le attività e le risorse del territorio, i tanti tesori spesso celati allo sguardo dei visitatori, il proponimento è quello di raccogliere tutte queste informazioni utili per il turista in unica grande directory del territorio, aperta, inclusiva, soprattutto gratuita, quindi con la disponibilità a tutti gli operatori del settore, dalle strutture ricettive ai ristoranti, dalle associazioni che fanno attività tipo di trekking o di cicloturismo, di arricchire questa piattaforma alimentando la visione che all'esterno il Cilento dà verso i turisti, garantendo in questo modo maggiori benefici in termini di prenotazione diretta. Ciò che riguarda la piattaforma Reception, invito tutti i proprietari di strutture ricettive, bed and breakfast, agriturismi, case appartenenti per vacanze o hotel, a registrarsi alla piattaforma raggiungibile al sito www.inreception.it per gestire e semplificare tutte le attività quotidiane. Per ciò che riguarda Cilento Travel, il portale è accessibile all'indirizzo www.cilento.travel, è gratuito e lo sarà per sempre e qualunque imprenditore del territorio che abbia informazioni utili, strutture ricettive, ristoranti, attività di servizio, possono registrarsi, avere a disposizione una scheda con cui promuoversi e rendersi localizzabili sul territorio.